Buongiorno a tutti, 2 maggio 2021, questo video per dare una notizia un po' a sorpresa che riguarda non solo gli appassionati di calcio ma gli appassionati in generale diciamo di anche scommesse legate al calcio, allo sport, sapete che il calcio è sempre stato indistolubilmente legato un po' all'idea anche della famosa schedina del totocalcio che è stato una sorta di rito collettivo per intere generazioni. Arriva oggi una notizia un po' a sorpresa che si è pensato io direi finalmente dopo anni e anni di declino, direi decenni, saranno almeno dieci anni che è in declino ma forse di più il totocalcio, di rilanciarlo, di rilanciarlo in grande stile e quindi vi anticipo che con la prossima stagione calcistica che comincerà come sapete comincia prima di come avevamo abituati noi che oggi abbiamo una certa età, comincerà in agosto riecco il totocalcio, scrive la gazzetta la storica schedina strizza l'occhio alle scommesse sarà sempre l'agenzia Dogane Monopoli a gestire il nuovo gioco calcio al 13 con due tipi di pronostici rieccolo, dato per morte sepolto, ristretto a gioco per intimi e nostalgici il totocalcio è pronto a tornare a nuova vita il totocalcio è stato ammacciato come voi sapete dal Super Enalotto il Super Enalotto distrusse questo gioco e poi la ammacciata finale gliel'hanno data naturalmente le scommesse sportive perché il Super Enalotto ha ammacciato questo gioco? perché quando è iniziato questo declino gli scommettitori si erano talmente raffinati che facevano tutti dei super sistemi a correzione di errore si chiamavano e era diventato veramente difficile vincere cifre importanti in quel periodo c'era anche una crisi economica gravissima in Italia uscì questo Super Enalotto che ti prometteva i miracoli ti prometteva non le vince cioè ti prometteva che con 1-2 euro perché io non ci giocavo mai non so neanche quanto si pagava non mi reputo di fortunato da poter aspirare a fare questo a vincere in questo modo comunque insomma il Super Enalotto ti apriva una speranza di con 1-2 euro di vincere non so 50 milioni di euro adesso non so quanto era a Montepremi delle cose spaventose quindi gli italiani ormai disperati sono affidati anche a questa scommetta a questo libro di scommetta sulla quale però io non mi pronuncio perché non avendoci creduto dall'inizio non sono proprio informato e poi un'altra cosa che minò la fortuna del Totocalcio fu che si abolì la tradizionale vecchia schedina quella rettangolare colorata che era stupenda usciva a martedì il mercoledì nei bar mi ricordo si andava appena e poi per due o tre giorni stavi lì a consultare le formazioni a cercare tutte le informazioni sulle singole partite per sviluppare la tua giocata poi ti mettevi davanti alla radiolina all'epoca non c'era internet ci si informava prevalentemente con la radio e poi alla fine perdevi sempre ma era un gioco no? lo vivevi giustamente come un gioco era un divertimento questo doveva rimanere il passaggio dalla schedina tradizionale rettangolare quella colorata a quella diciamo quella lunga striscia dove devi mettere i pallini sicuramente ha un po' deluso diciamo gli scommettitori che da decenni giocavano in quel modo quindi ci sono un po' trovati così ma con queste palline così vi ricordate quindi tutte queste cose messe insieme complice anche la gravissima crisi economica che ha travolto l'Italia perlomeno dal 2008 perché voi capite che al Totocaccio per sperare di vincere qualche soldo bisognava giocarlo con le scommesse giochi 2 euro puoi giocare 2 euro e sperare di vincere anche 1000 euro per dire no? quindi 2 euro ce l'hanno tutti è chiaro che l'interesse si è spostato completamente verso le scommesse ma continuiamo nella lettura inizialmente si pensava che il gioco sarebbe stato organizzato direttamente da Lega e Federcalcio ma invece sarà sempre l'agenzia dogane i monopoli a gestire il gioco è già partita la lettera ai concessionari del tipo tenetevi pronti come funzionerà? da una parte la caccio al 13 con due tipi di pronostici uno relativo agli incontri top che saranno 5 e l'altro per il cosiddetto pannello equilibrato con le altre 8 gare ma si potrà vincere anche con 11 partite e a scalare con 9, 7, 5 e 3 incontri un modello affine alle puntate multiple che vengono giocate nelle sale scommesse nascerà quindi un modello Formula 3 si gioca su due eventi obbligatori e su un opzionale o Formula 5 3 e 2 o Formula 7 4 e 3 Formula 9 5 e 4 Formula 11 6 e 5 a seconda del numero di partite su cui giocare si sta lavorando anche sulle nuove schedine cartacee e online per la corsa al 13 rimarrà la classica modalità dell'1x2 nel caso non ci sia un vincitore in una categoria è previsto quindi l'accumulo del jackpot parlare di Totocalcio è come raccontare un pezzo di storia d'Italia dall'intuizione del giornalista Massimo Bellapergola ai giorni del boom quelli in cui la schedina finanziava tutto lo sport italiano poi film, libri, battute una presenza nel linguaggio popolare tramontata negli ultimi anni decenni anni virgola decenni come dicevo prima ormai sono decenni sono almeno 15 forse 20 gli anni che sono passati da quando il Totocalcio è sostanzialmente morto quando cominciò il tramonto anche grazie alla legalizzazione delle scommesse oggi le partite nella schedina sono 14 e comprendono non solo la serie A ma anche le partite della Premier League io questa cosa pensate che neanche lo sapevo io non ci penso ormai più al Totocalcio non gioco una schedina ma credo veramente da perlomeno da 15 anni non sapevo neanche che c'erano partite della Premier League quindi mi auguro che si ritorni al passato perché secondo me il gioco del Totocalcio era un gioco sano che era un po' come fai la settimana enigmistica tu prendevi le partite ti studiavi tutte le formazioni l'abilità qual era? quella di sapere che nelle squadre c'erano per esempio degli indisponibili degli squalificati all'epoca le rose erano molto più corte quindi era molto più facile anche seguire e quindi cercavi di avvicinarti ma poi tanto c'era sempre la sorpresa anche perché non c'era la varra e quindi è chiaro che senza la varra gli errori arbitrali si sprecavano c'era sempre qualche errore arbitrale che cambiava l'esito di una partita oggi secondo me è un po' più semplice avvicinarsi e poi ripeto alla fine perdevi magari facevi undici dodici ma era un divertimento passavi qualche ora così mentre sentivi le partite a seguire aggiornare i risultati era una specie di gli amici giocavano in società il padre e il figlio facevano una schiettina insieme sono dei riti proprio erano un vero e proprio rito di un paese di un bel paese che purtroppo oggi non c'è più oggi veramente andiamo a una velocità va tutto a un ritmo sfrenato quindi il mondo è completamente cambiato è impensabile stare una settimana a studiare delle partite oggi in 5-10 minuti devi formulare il pronostico e quindi insomma avevo voluto dare questa notizia che sicuramente è una grossa sorpresa e quindi mi auguro che abbia successo buon calcio a tutti e quindi a questo punto buon totocalcio a tutti grazie a tutti